Ciao! Benvenuto a un nuovo episodio di Magnetismo Personale. Oggi risponderemo ad un quesito interessante, e cioè, cosa devi fare per interessare una ragazza quando non ti cerca. Se ti stai frequentando con una ragazza, oppure con qualcuna che conosci, e vuoi sapere cosa devi fare quando una ragazza non ti cerca, allora sei nel posto giusto. Vedremo innanzitutto cosa significa quando una ragazza non ti cerca. Successivamente andremo a vedere cosa puoi fare tu per fare in modo che lei si interessi a te, e che quindi ti cerchi. Ma bando alle ciance, passiamo al pratico. Innanzitutto voglio tranquillizzarti con il fatto che quando una ragazza non ti cerca, non è detto che lei non sia interessata a te. Piuttosto, possono essere tanti i motivi per la quale una ragazza non ti cerca, e dipende tantissimo dal tipo di rapporto che hai instaurato con questa ragazza, oltre al tipo di comportamento che tu stai avendo nei suoi confronti. Considera che comunque l'attrazione, la seduzione, è un gioco, quindi le sue possono anche essere delle tattiche messe in pratica. In questo audio andremo ad analizzare questo ed altri punti insieme. Ma prima di farlo, ti ricordo di iscriverti al nostro canale YouTube, se ci stai ascoltando da lì, per rimanere aggiornato ogni settimana sui nuovi contenuti che pubblichiamo. Oppure di seguire i nostri vari profili di riproduzione streaming, come iTunes, Spotify o altri. Ma torniamo a noi. Stavamo parlando di come fare ad interessare una ragazza che non ti cerca. La prima domanda che ti devo fare è che tipo di rapporto hai con questa ragazza. Come abbiamo detto, la prima domanda che devi porti è che tipo di rapporto hai con questa ragazza. Al momento non conosco la tua situazione precisa, chiaramente, però ti darò gli strumenti necessari per andare a comprendere se è normale che lei non ti cerchi. Nel caso in cui questa è una ragazza che hai conosciuto relativamente da poco, diciamo da pochissimi mesi, magari ci sei uscito poche volte. E quindi potrebbe essere mediamente normale, se non ti cerchi. Questo succede in quanto magari non ha avuto ancora il modo di comprendere se tu sei la tipologia di uomo che può fare al caso suo. Quindi magari non è ancora nata quella scintilla in lei. E fa attenzione, ho detto non è ancora nata, questo non significa che non possa nascere del tutto. Seppure è una cosa mediamente normale, non vuol dire che va bene così. Soprattutto se tieni particolarmente a questa ragazza. E per te è una donna potenzialmente ideale per una relazione. Puoi sicuramente migliorare e fare di meglio. Proprio per questo motivo, se questa è la situazione in cui ti trovi, salta alla parte in cui andremo a vedere qual è l'errore che una grandissima percentuale di uomini commette e successivamente passa alla parte dove ti spiego cosa devi fare per farla interessare a te facendo in modo che sia lei a cercarti. Ovviamente può capitare che questa non è una ragazza che conosci da poco. Magari è una ragazza che conosci da mesi e mesi. Oppure addirittura si tratta di una ragazza con la quale hai una relazione in corso da diverso tempo. In quest'ultimo caso cambia completamente il discorso. A differenza del caso precedente, non è assolutamente normale che lei non ti cerchi. In questo caso le cose che devi fare sono solamente due. Tentare di comprendere se stai commettendo l'errore che vedremo più avanti e nel caso aggiustare il tiro per poi successivamente mettere in pratica le strategie per farla interessare a te. Oppure valutare in modo oggettivo e senza l'influenza delle emozioni se realmente questa è la tipologia di donna per cui vale la pena continuare la conoscenza o la relazione. Capisco perfettamente la difficoltà di quest'ultimo punto, in quanto in alcuni casi, soprattutto se si tratta di relazioni di lunga durata, è difficile ammettere a noi stessi in primis che manca la compatibilità di coppia. Ma adesso passiamo all'errore di cui ti parlavo prima, che la stragrande maggioranza degli uomini commette quando si rapporta ad una donna. Abbiamo definito quindi come comportarsi quando una ragazza non ti cerca in base al tipo di rapporto che hai con lei. Mi sembra normale. C'è però un errore che riguarda la stragrande maggioranza degli uomini lì fuori, e che molto probabilmente anche tu stai commettendo. Ed è per questo motivo che questa ragazza non ti cerca. L'errore consiste nella mancanza di scarsità. Se sei un ascoltatore abituale di questi audio, saprai già benissimo di cosa sto parlando. In caso contrario ti invito a iscriverti al nostro canale YouTube se ci stai ascoltando da lì, in modo tale da poter recuperare tutti questi contenuti, oppure di seguire i nostri vari profili di riproduzione streaming come iTunes, Spotify o altri. Inoltre puoi andare sul nostro blog magnetismopersonale.com per recuperare questi e tanti altri articoli che possono non solo interessarti, ma cambiarti la vita. Lascia comunque che ti dia qualche informazione anche in questo audio. La nostra mente tende a dare valore alle cose che sono scarse in natura. Riflettiamo insieme per un attimo. L'oro viene considerato di valore, perché è tra i minerali più scarsi del mondo. I diamanti vengono considerati più di valore dell'oro. E sai perché? Proprio perché sono ancora più scarsi dell'oro. Lo stesso principio vale ad esempio per una Ferrari. Se una Ferrari costerebbe quanto una panda, quindi sarebbe alla portata di tutti, sarebbe davvero l'oggetto di desiderio di miliardi di persone su questa terra? Io non credo proprio. Lo stesso accade nelle relazioni. Più sei disponibile nei confronti di una donna, più sei tu a cercarla, più sei tu a volere una relazione con lei, più lei dà per scontato che ti ha in pugno. E per questo motivo non si sforza neanche nel cercarti. Proprio per questo motivo, quello che devi fare a partire da adesso, da ora, è quello di iniziare ad essere più scarso nei confronti di questa ragazza. Ecco cosa puoi fare a partire da oggi. Parti da non risponderle subito ai messaggi, piuttosto lascia passare anche ore, o giorni addirittura. Riduci le volte in cui le fai complimenti al minimo in assoluto. Chiedile di uscire qualche volta in meno, o quando lo fai, fai sembrare che metti davanti le tue priorità, come ad esempio vederti con gli amici, oppure andare in palestra. Fai sembrare che sei circondato da altre donne, sia come amiche e sia come altre donne che potenzialmente potrebbero interessarti per una relazione. Dimostra di non aver bisogno di lei. Piuttosto hai altre priorità nella tua vita, come in effetti hai. Queste sono alcune cose che puoi iniziare a fare a partire da oggi, e vedrai come avrai dei notevoli miglioramenti nella tua situazione. Ma questo non è tutto quello che devi fare per farla interessare a te. Abbiamo visto adesso come applicare la scarsità come principio di persuasione. Tuttavia, dobbiamo anche capire come diventare realmente appetibili per una donna. Quindi, uomini di valore, e non solamente sembrare di esserlo. Riprendendo l'esempio della Ferrari, oltre ad essere appetibile in quanto non tutti possono permettersela, è appetibile anche perché può arrivare anche ad 800 CV di potenza. Un macchinone! Diventare uomini di valore è quindi un punto estremamente importante se vuoi fare in modo che lei si interessi a te, e quindi inizi a cercarti in quanto lei vuole te, anche più di quanto tu vuoi lei. Data l'estrema importanza di questo argomento, ho dedicato un intero manuale su questo, che ho chiamato Metodo Magnetico, che ti consiglio di scaricare se anche tu vuoi avere la capacità di fare interessare le donne a te, facendo quindi in modo che la strada per conquistare una donna sarà in discesa. Il nome Metodo Magnetico non è casuale. Applicando i concetti che troverai in questo manuale, e diventando l'uomo che qualsiasi donna desidera, sarai in grado di diventare una vera e propria calamita, capace di attrarre a te le donne che ti interessano. Scarica subito anche tu il manuale, così come hanno già fatto centinaia di altri uomini, per iniziare il tuo percorso di trasformazione personale, ed avere una strada in discesa quando si tratta di conquistare una donna. Ti rivelo il Metodo Magnetico per attrarre a te qualsiasi donna desideri, in poche settimane. E se ti dicessi che dopo aver letto questo manuale e applicato i concetti che ti rivelo, saranno le donne a volerti al loro fianco? Questo è quello che è successo agli oltre 400 uomini che hanno già scaricato questo manuale definitivo sulla seduzione. Comunque concludo il discorso del quando una ragazza non ti cerca. Abbiamo visto cosa devi fare quando una ragazza non ti cerca. Possiamo sintetizzare tutto quello che abbiamo visto in questo articolo in un processo a tre step. Il primo è comprendere la situazione in cui ti trovi, perché possono esserci diverse situazioni, a seconda del grado di conoscenza con la ragazza che hai davanti. Il secondo è di praticare il principio della scarsità, che ti ricordo puoi trovare altri articoli a tema sul nostro blog magnetismopersonale.com. Il terzo è diventare un uomo di valore per attrarre a te questa ragazza. E anche su questo argomento puoi trovare un sacco di articoli sul nostro blog magnetismopersonale.com. Abbiamo visto che la situazione cambia molto in base al tipo di rapporto che hai con la ragazza in questione, e che la situazione ha due interpretazioni diverse. Tuttavia è probabile che tu stia commettendo l'errore di essere troppo disponibile. Ed è per questo che lei non si sforza di cercarti, dando appunto tutto per scontato. È l'ultima cosa che devi fare, cioè darti per scontato. Proprio per questo motivo che dobbiamo applicare il principio della scarsità. In ogni caso non dobbiamo essere solamente scarsi, ma dobbiamo affiancarlo anche dal fatto di essere uomini di valore, affinché lei ci cerchi proprio perché siamo la tipologia di uomo che lei desidera. Una donna non cerca mai quello che non le interessa, ovviamente. Ecco perché dobbiamo comprendere come fare in modo che lei si interessi a noi. A tal proposito ti ricordo che puoi recuperare molti articoli che possono esserti di aiuto sul nostro blog magnetismopersonale.com. Inoltre puoi anche scoprire le nostre risorse premium e quindi dare una svolta alle tue relazioni. Basta andare su magnetismopersonale.com slash risorse, oppure direttamente dal nostro sito magnetismopersonale.com cliccare sul pulsante rosso risorse. Se questo audio ti è piaciuto e ci stai seguendo da YouTube, iscriviti al nostro canale per restare sempre aggiornato sui nostri nuovi contenuti. Se invece ci stai seguendo da un'app di streaming audio, segui il nostro profilo. Per oggi è tutto, ti do appuntamento al prossimo episodio.